... ... ... ... ... ... Tutti contro... Non puoi morire, non puoi morire, c'è poco da fare... No, assurdo! No, assurdo! No, assurdo! No, assurdo! No, assurdo! No, assurdo! Non vanno a farlo Che c'è! Si lo vediamo, assurdo! Sì no 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 Cosa c'è? non mi ha detto non mi hanno chiede grazie Sì, sì. non c'è un nemico in volo non c'è un bravo c'è un po' di uscire sul danciano a no non c'è nessuno No, 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 no non si può essere un po' non ci sono non c'è ma 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 quando riuscire a 기본i fatti fuori ? e sbarco da zacchetti spartano a liceo vai vai che ti ho visto spondi che ti met тестio non ti spondi che ti metterai non vado non c'è nulla non c'è nessuno c'è usc non c'è nessuno meno di un minuto questo è per quello di prima 30 secondi tempo scaduto muoversi muoversi non è un fratto radar personale nemico ho sentito non ho sentito ma non so dove uno davanti e uno dietro e vanno con la coda tra le gambe ben fatto non è necessario la coda allora la coda non è vero 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 non è vero